Una manifestazione, un'esperienza bellissima dal punto di vista umano, oltre che professionale per me. Un grazie all'amministrazione comunale di Leporano, sempre sensibile a questi momenti di fede e di cultura. Siamo con la dottoressa Yolanda Lotta, assessore alla comunicazione istituzionale e agli spettacoli del comune di Leporano. L'amministrazione comunale ha voluto considerare questa opportunità di donare alla nostra comunità, con il nostro Monsignor Pasquale Morelli, che è la pietra profonda di questa parrocchia, a organizzare questo evento. La scena, il quadro che si è concluso stasera della risurrezione, è stata una scena emozionante. Un ringraziamento va anche a tutti i ragazzi che hanno partecipato, gli 80 ragazzi della parrocchia. È stato un momento di aggregazione sociale e in questo momento di congiuntura economica auguro a tutta la mia comunità tanta serenità e tanta pace e una buona Pasqua. Grazie a tutti.